Vi sono nella campagna romana alcuni luoghi speciali che per la loro antichità o per la bellezza degli intorni o per le qualità caratteristiche delle popolazioni o per i monumenti invitano il forestiero a visitarli. La regione di cui mi accingo a parlare è appunto uno di questi luoghi e appartiene alla legazione di Frosinone stendendosi sopra il fiume Sacco sulle pendici dell'Appennino. Le principali città di questa regione, degli antichi ernici, sono Anagni, Ferentino, Alatri, Veroli e Frosinone, paesi tutti più antichi di Roma, le cui origini risalgono ai tempi favolosi di Saturno e a quelli dei Ciclopi. Era mio proposito visitare non solo le città ma arrampicarmi anche su Perimonti per vedere la bella e famosa Certosa di Srisulti e, nelle sue vicinanze, la rinomata Grotta di Colepardo, nonché lo strano pozzo nelle rocce di Santulla, a forma di imbuto, detto Fonte d'Italia, del quale molti parlano ma pochi si recano a visitare. A cavallo, in compagnia di un bravo campagnolo, certo Francesco Romano, che avevo preso Meco come guida e come servo, lasciai Anagni, prendendo una amenissima via. Scendendo la collina su cui sorge Anagni, ad una distanza di circa otto miglia, si scorge Ferentino, che si presenta come un paese di una certa importanza, collocato in cima all'ampia ed estesa vetta di un colle le cui pendici sono verdeggianti di vigneti e di giardini, mentre sulla cima sorgono pittorescamente nere torri medievali, chiese e conventi. La via latina sarebbe molto monotona sino a Ferentino, se non fosse animata dal continuo passaggio dei ciociari. E qui se ne incontrano molti, perché la via latina serve per il trasporto a Roma non solo dei prodotti di queste contrade, ma anche di quelle dei confini napoletani. E gli arpinati, compatrioti di Cicerone e di Mario, sono soliti portare i loro bestiame al mercato della città eterna. Incontrai molte comitive di gente di quei paesi e file di carri pesanti e grossolani, con due enormi ruote, detti barocci, tirati da buoi bianchi dalle corna lunghissime. Alcuni di questi barocci erano carichi di sacchi di grano, altri di lana. La maggior parte però portavano ceste di polli. I campagnoli che li conducevano facevano veramente una splendida figura, con i loro cappelli a punta, le lunghe giubbe rosse e i sandali di rozzo cuoio.